Una mole di lavoro soprattutto per voi che rappresentate la Confidi, una mole di lavoro davvero importante in questi mesi? Abbiamo ricevuto tantissime richieste, tantissimi disagi per fare anche le richieste sul sistema bancario e abbiamo dato priorità a tutte le moratorie, poi a 25 mila euro, ma nel tempo stesso anche a importi superiori a 25 mila euro, anche se la tempistica si è rivelata molto lunga, sia per i 25 mila che per quelli superiori. E ancora una volta la burocrazia l'ostacolo principale per l'accesso al credito delle imprese anche nell'era Covid. Con Italia Confidi, Consorzio di Garanzia, Fidi di Confesercenti, proviamo a tracciare un bilancio di questi mesi. Mesi duri, difficili, ma forse il peggio economicamente dovrà ancora arrivare. Per questo molte aziende hanno scelto di fare richiesta di accesso al credito attraverso le misure introdotte dal decreto Cura Italia e successive modifiche. Le prime pratiche dei 25 mila erogati a metà maggio, quindi dal decreto liquidità uscito l'8 aprile, con tutte le varie circolari successive a fine aprile, quella quindicina di giorni c'è stata. Quelle superiori a 25 mila da fine aprile, c'è voluto due mesi per avere la prima erogazione. Oltre 50 mila le imprese in Toscana che ne hanno fatto richiesta dati del fondo di garanzia, Arezzo è quarta per numero di domande circa 5.400 dopo Firenze, Pisa e Lucca. I 25 mila euro rimborsabili in sei anni sono diventati adesso 30 mila in dieci anni, una boccata d'ossigeno importante per tante aziende che provano a superare questo periodo. Ha un po' allargato le maglie anche sui requisiti, che non è solo il 25% dei ricavi, ma anche il doppio del costo del personale, quindi magari hanno apportato alcune aggiuntività. E poi un'altra novità è sicuramente anche la rinegoziazione del debito, che se prima era un 10% minimo di liquidità aggiuntiva, ora con la circolare di venerdì è diventato il 25%. Fondamentale il ruolo delle associazioni di categorie ed in particolare di confidi, soprattutto per orientarsi nella giungla di circolari post decreto. Il nostro supporto è proprio dare alle aziende questa consulenza immediata di tutte le varie opzioni che ci possono essere per te azienda per richiedere al sistema bancario.